Perché se andiamo a vedere che si lanciano i coriandoli o soffiano dentro le cannucce Non è Squid The Game, gente Benvenuti in me e molto altro, io sono il main giallo e nero e oggi voglio parlarvi di Squid The Game Eh sì, dici, ma una settimana fa è uscito, già hanno fatto un sacco di video Ok, perdonatemi, avevo il microfono che non funzionava, che dovevo fa? Non ho messo più video Allora, volevo dirvi una cosa di Squid The Game Non vi parlerò della serie, non vi parlerò dei personaggi se non a piccoli tratti Io voglio focalizzarmi sul tema, su perché abbiamo visto Squid The Game, tutti noi Allora, secondo me, vado subito al punto Che cosa possiamo identificarci in questo gioco? Nei personaggi? No Possiamo identificarci nella storia? No Possiamo identificarci nel frontman? No Possiamo identificarci in primo, cioè il vecchietto? No In che cosa possiamo identificarci? Allora? Nelle maschere, gli uomini con le maschere, bene sì Ora voi direte, ma che cosa sta dicendo questo meme in giallo e nero? Cosa mai dice? Noi siamo gli uomini con le maschere, signori Perché? Perché in fin dei conti abbiamo tutti quanti, la prima volta che abbiamo visto questo Squid The Game su Netflix Abbiamo visto il trailer E appena abbiamo visto la prima morte Un po' astratta, perché non era ben chiaro come doveva andare a finire questa serie Che cos'era questa serie? Altilata dentro alla mente E ha detto, oh però vediamo tutti sti morti Come va a finire? Sono dei giochi Andiamo a vedere Sappiamo che muorirà la gente Già due o tre stelle ha morto in bocato del gente E noi stiamo lì Oh mamma mia Ma che serie che stiamo a vedere Bella E non vediamo l'ora delle altre morti Il caramello Madonna, speriamo che quello sbaglia Matta Che sbaglia con quel punterolo Guarda che maledetta qua Accendino Sta ruba Sta frega E andiamo a finire gli altri giochi anche E' una scena incredibile dove muore della gente E noi siamo contenti perché i protagonisti sono vivi Ma questa è una cosa normale Però tutta quella gente che è morta A noi non ce ne importa nulla Perché noi siamo spettatori Spettatori come quegli uomini con la maschera d'oro Quelle della biglia Delle biglie E' una cosa straziante Quando muore primo Ma muore anche quell'altra coreana Quella ragazza che tira la pallina Baglia di proposito Ma noi non ce ne frega niente Noi vogliamo vedere le morti Al ponte Al ponte è stata una goduria Cioè vede tutti quelli che morono Anche i cattivi Assassine La matta E' stato veramente stupendo In quanto là potevi anche usare l'ingegno Per superare quel maledetto ponte Tra il vetro temperato Il vetro fasullo Quello del vetretto E lì muore tanta gente Chi viene spinto Chi viene... Ma non ci godia Noi diciamo Però qua c'è qualcosa che non va Cioè alla fine C'è qualcosa che non vale Diciamola Un pochettino Almeno ha dato questa sensazione E Diciamo pure che Alla fine il gioco del calamaro Che doveva essere quello più brutale Più violento Più distruttivo di tutti Alla fine si è rivelato Forse per merito di Jian Il gioco più compassionevole del mondo Perché in fin dei conti Lui non avrebbe mai ucciso il suo amicone Già si rendeva conto Che era stato troppo Ma già nei giochi Si era reso conto Che era stato troppo Ma i signori Con le maschere Con le maschere dei animali Che rappresentano L'iconografia del potere Della Della Prosperosa pace E goduria nel vedere Tutta questa gente morta Non gli interessa nulla Vuole vedere altre morti E in fin dei conti Siamo noi Vediamo la morte Dell'amicone Che si uccide da solo In qualche modo Non dico Forse esagero molto In qualche modo Qualcuno ha esultato alla morte E questo è sbagliato Però fa parte della serie Fa parte dello spettatore Che vede i film Ecco perché Noi siamo le maschere Noi siamo le maschere Della serie Tipo Diciamo così Perché ci piace Vedere tutte queste morti Ok Dopo ci riprendiamo Un pochettino Quando Jian Diventa il ribelle Con i capelli rossi Che vuole sgominare Tutta questa organizzazione Che si presume Sia anche Mondiale A questo punto Ma sicuramente Mondiale Nel sequel Sarà sicuramente così E non dico Che Jian Non ce rimane Secondo me Ce rimane Magari usciranno Altri personaggi Che lo sostitueranno C'ho questa impressione Che Jian Ci muore male Al primo episodio Che faranno E noi siamo Le maschere Perché ci è piaciuta Una goduria C'è gente che se lo rivede Su Instagram Su TikTok I ragazzi Rivedono queste morti Hanno fatto anche Le applicazioni Ovviamente no Per morire Sia chiaro Le applicazioni Per l'Erosquid the Game Hanno fatto Diciamo Dei giochi Di sopravvivenza Che un po' Riprendono alcuni Anche proprio Giochi dello Squid the Game Quelli originali Come Culture Pop In fin dei conti Ma Alla fine Aspettiamo il Sequele Sì io L'aspetto Mi indosserò La maschera Durata Ovviamente No ma Neanche voi Però in qualche modo Noi siamo Quelle maschere Che vogliamo vedere Altri morti In Squid the Game In Squid the Game Due Perché se andiamo A vedere Che si lanciano I coriandoli O soffiano Dentro Le cannucce Non è Squid the Game Gente Se vi è piaciuto Questo video Ditemi cosa ne pensate Se state sullo stesso Pensiero mio Mettete mi piace Condividete Iscrivetevi Attivate la campanellina Faccio sempre Con sta mano Mi riesce meglio Il me In giallo E nero Vi saluta E vi aspetta Nel prossimo video Yuhuuu Lo amo Quelle maschere